Guardando questo punto del mio dito, guarda solo questo punto del mio dito, guarda solo qui, solo qui, solo qui Continua a guardare fuori dallo schermo, continua a guardare fuori, fuori, fuori dallo schermo Cercati a vedere solo le mie mani con la tua visione periferica, periferica, periferica una lampadina, una lampadina, una matita, una ripresa di carta e un accento e un pensiero d'amore Grazie di essere qui Oggi voglio fare un video con dei trigger che non ho mai fatto, ho fatto veramente molto ruramente Infatti questi trigger saranno accomunati dal fatto che tu dovrai guardare, non dovrai guardare me oppure dovrai guardare me ma non dovrai guardare altrove Quindi dovrai guardare dove ti dirò io fondamentalmente E poi dopo ci sarà sempre un trigger in cui metterò proprio le mani così In realtà metterò fondamentalmente lo schermo nero E in cui farò un trigger che si chiama Anticipatory Tweaker E vedrete insomma, e anche lì non dovrete o non vedrete nulla sullo schermo Quindi ho deciso di racchiedere tutto qui Non ci avrete capito niente E' ok Va benissimo, non vi preoccupate ma spero davvero questo video vi piaccia Perché è super particolare E mi interroga, sono bellissima Faccio un esempio giusto per far capire Ok, allora adesso guarda il mio dito E concentrati sul mio dito Guarda quindi solo, solo qui Nell'angolo, ok, del video Non guardare altrove Concentrati qui E questi trigger sono fatti per stimolare E per farti venire i priviti attraverso la tua visione periferica Quindi guarda qui nell'angolo del video Ok? Ok Continua a guardare il mio dito Solo il mio dito Guarda solo il mio dito Concentrati sul mio dito Ok, molto bene Adesso rallento un attimino Ok, tu stai Con lo sguardo sul mio dito Sul mio dito Ok? Sul mio dito Sul mio dito Sul mio dito E continua a concentrati su quello E vedi che con la tua visione periferica Vedi questo pennello E con me questo trigger funziona Veramente tantissimo Impressionante Quindi non guardare il pennello Ma guarda solo, 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 solo Solo il mio dito Ok? E questo fondamentalmente è il concetto di questo video Prima del pennello Però voglio partire da un trigger che è dura Cioè Il volo dei light Ma appunto un po' particolare Quindi sempre Questa volta Guarda il mio naso E concentrati solo sulla punta del mio naso Ok? Ok? Concentrati sulla punta del mio naso Non guardare altro Non guardare altro Non guardare altro Concentrati solo Sulla punta Sulla punta Sulla punta del mio naso Ok? Lo stai facendo? Spero di sì Altrimenti non funziona Ok? Concentrati qui Sulla punta del mio naso Esatto Proprio qui Proprio qui Guarda qui Benissimo 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 Ancora, ancora, ancora Guarda il mio naso Continua a guardare il mio naso Solo, solo, solo Solo, solo il mio naso Ok? Perfetto Ancora Ancora, ancora, ancora Solo, solo Solo il mio naso Solo il mio naso Continua a guardare Solo la punta del mio naso Non guardare altro Ok? Adesso Continuando a guardare Solo la punta del mio naso Ok? Non girare la testa Non fa niente Guarda solo la punta del mio naso Prova a capire Quando la luce entra nello schermo Ok? Quindi Dimmi O comunque Prova a capire Quando Vedi La luce Ok? Ok? Continuo a guardare qui Guarda qui Benissimo Continuo a guardare Continuo a guardare Ok? E adesso dimmi Quando sparisce la luce Continuo a guardare Continuo a guardare il mio naso Continuo a guardare Continuo a guardare Solo il mio naso Solo il mio naso Ok? Solo qui Solo la punta La punta La punta Ok? Molto bene Adesso Guardando questo punto del mio dito Guarda solo questo punto del mio dito Guarda solo qui Solo qui Solo qui Solo di lato Concentrati solo Solo sul lato Ok? Guarda solo questa parte Benissimo Cosa stai provando? Com'è? È interessante Com'è? Cos'è? Lo so Lo so Adesso non guardare il mio dito Ma guarda O a destra O a sinistra Non mi interessa Ok? Però guarda Fuori Dallo schermo Ok? Va bene Mi sto vedendo E quindi guarda fuori 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 Dallo schermo In questo modo Eserciterai la tua visione periferica Guarda solo fuori 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 Dallo schermo Guarda fuori 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 Dallo schermo Fuori 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 Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Continua a guardare fuori Dallo schermo Sì? Non c'è bisogno che sia troppo Fuori Semplicemente Di fianco Ok? Però non guardare Lo schermo Non guardare La torta Ok? Molto bene Benissimo 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 Grazie Adesso invece Questa Guarda la luce qui Guardala qui Concentrati qui Concentrati qui Proprio in agonia sotto Concentrati qui Concentrati qui Concentrati qui Ok? Concentrati su quest'ingolino Su Rossa la luce Contreditati Su Rossa la luce Concentrati qui Su Rossa 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 eccoci il tuo sguardo in quel punto eccoci molto bene io adesso anche con questo continuo a concentrare il tuo sguardo sulla luce continuo a concentrare in quell'angolo ok se vuoi spostano ancora più a lato segui la luce sposta il tuo sguardo lì dove vedi l'origine della luce ok benissimo molto molto bene molto molto bene andrei facendo un lavoro braviglioso ok benissimo non spostare lo sguardo continuo a fissare la luce da dove proviene la luce good good job good job molto bene molto bene molto bene molto bene la testa rallenta un attimo ma tu non guardare lo schermo 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 perfetto adesso sempre questa volta guardando di qua, ok? guarda da questa parte di fianco allo schermo, ok? di fianco allo schermo non parare, non parare non parare, ok? e adesso dimmi che numeri sono? ok? ok? bene 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 benissimo d'accordo? molto bene grazie mille continua a guardare fuori dallo schermo continua a guardare fuori 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 dallo schermo cerca di vedere solo le mie mani con la tua visione periferica 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 stai facendo un lavoro splendido spero che sono venendo che sono venendo tanti brevedini 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 nooo guardo le mie mani nooo guardo le mie mani guarda su fuori all'esterno fuori 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 ok molto bene adesso sempre guardando fuori non mi interessa se di qua o di qua l'importante è che tu guardi fuori 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 dallo schermo ok benissimo adesso io scriverò delle parole scriverò delle parole in aria tipo heart racing prova a capire di che parola si tratta ma non guarderai mai direttamente lo schermo ok ci siamo benissimo ecco qua ok ancora ora molto bene seconda parola molto bene molto bene sì 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 esatto mi sa qua scrivimi scrivimi le parole che stai capendo ok adesso guarda dall'altra parte guarda di qua guarda di qua ok e di nuovo un'altra parola e di nuovo un'altra parola e ripeterò tutte le parole due volte in modo che tu abbia la possibilità di capire capire meglio ecco guarda anche la quarta parola ultima ultima parola ok l'hai vista l'hai vista l'hai vista l'hai vista l'hai finale l'hai vista l'hai l'hai ripeto un po' di volte l'hai ripeto un po' di volte ma stiamo guardando su un angolo quindi puoi guardare in su puoi guardare in giù puoi guardare in su puoi guardare in giù puoi guardare a destra puoi guardare a sinistra puoi guardare a sinistra puoi guardare a sinistra ok basta che tu non 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 guardi lo schermo ok io farò del tracing invece su questo quaderno d'accordo? ok ma non guardare lo schermo non guardare concentrati sono solo la visione per i vecchi ok eci qua è bellissimo è bellissimo vero? lo so lo so e a distinguere gli aggiunti su cui sto facendo tracing e ci riconoscendo anche se non guardi il tavolo schermo sono curiosa sono curiosa magari alcuni si e alcuni no sono sono veramente curiosa se vuoi rimanere ok che 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 questo è un animale, riesce a capire di che cosa si è fatta non guardare, non guardare, non guardare ok, ok vediamo se avete indovinato questo cosa sembra una mappa una lampadina una lampadina, una lampadina, una lampadina una matita, una ripresa di carta e un'agenza e un pensiero d'amore un omino su una bicicletta e poi di qua abbiamo visto un cagnolino e un gattino e poi anche qui qui ah, è la chitarra di venire riconosciuti spero di sì spero di sì spero di sì spero di sì, fammelo fammelo sapere, ok sì ci conto ok adesso sempre guardando sul mio naso, sul mio naso, sul mio naso, sul mio naso, sul mio naso ok prova a vedere quando entrano le mie dita nella tua visione ok ancora molto bene molto bene adesso un'altra volta molto bene molto bene molto bene molto bene molto bene adesso come ti ho anticipato prima faremo questo trigger questo trigger si chiama anticipato trigger in cosa consiste? te lo faccio vedere e poi invece toglierò diciamo l'aspetto visile ce ne ero tutto intorno quando non vedrai dove sarò potrai sono illuminare in base a lato dove lo senti e e dovrai capire dove dirò le parole le parole le parole vi la tieni con gli occhi chiusi e tutta un'altra esperienza cominciamo ok? chiudi gli occhi chiudi 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 gli occhi molto bene perfetto adesso giro 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 riesci a capire dove 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 sono riesci a capire dove dove sono e anche a pire tutto il suono tutto il suono e l'escriviti lì 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 per lì 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 allora, pigiama 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 eccoci qua, poi pian piano pian piano, pian piano, riaprire gli occhi alla fine di questo diventerò la soluzione nel senso che diventerò il complete in cui vedrai, davvero? ok? ok, ok ultimo esercizio se non hai già chiuso gli occhi definitivamente definitivamente guarda sempre dove vuoi ma non lo schermo guarda su guarda giù guarda destra guarda sinistra non mi interessa non guardare qui non guardare il mio dito non guardare ok? ci sei? hai deciso di porre il tuo sguardo? molto bene ascolti questo massaggio nell'ostante sul tuo viso guarditelo molto bene bene vedi che è il ruolo ma tu lo vedi solo con la tua visione 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 per i feri visione per i feri molto bene molto bene e faccio questo ti modri che il buon rallentare il buon ritmo magari rimane troppo veloce per te ma adesso di sicuro non lo farà quindi rallentiamo 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 quindi ripetiamo la mano rallentiamo 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 però tu non guardare non guardare direttamente ci siamo capiti benissimo benissimo molto bene movimenti lenti 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 ancora un altro po' ancora ancora un po' più di movimenti lenti 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 molto bene un po' anche di carenza lenti il visto non guardare non guardare meno non guardare meno e io io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio proprio si aggiunta per te a passar le luci e a curar a curarte a curare a te a te una buona 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 notte buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte tu sei mi toro tu sei mi toro tu sei mi toro tu sei mi toro buona notte buona notte so sweet dreams so sweet 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 thank you for watching this video Bye ok 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 chiudi 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 molto bene perfetto adesso giro 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 riesci a capire dove 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 sono dove già capire dove sono dove scè capire 2 dove sono dove sono sono e non saliamo le 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 ma 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 mo in no in . non cernare non cernare no, no, no water sound water sound buongiorno e l'ultima, l'ultima, l'ultima parola e l'ultima, 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 l' Grazie a tutti.